Rete è la parola che ricorre nelle progettualità dell'amministrazione provinciale, la trovi soprattutto nel DUP, il documento unico di programmazione, fino al 2020, approvato nell'ultima seduta a Palazzo Dogana. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare le discontinuità ambientali e organizzative. Fare rete con i 61 comuni della provincia, assicurare più servizi, svolgere il ruolo istituzionale dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio. Sarà istituito un album line dei comuni e gestito dalla provincia. Il DUP prevede la convenzione per la stazione unica appaltante relativamente ai 24 comuni dell'area Foggia 1 Nord, con la predisposizione della gara finalizzata ad individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto. Nel documento unico della programmazione c'è l'organizzazione di eventuali concorsi e procedure selettive, il coordinamento e supporto per la predisposizione di bandi relativi al servizio civile, attività di aggiornamenti del piano territoriale, pianificazione, programmazione, progettazione di organismi edilizi ed opere infrastrutturali.